Sono morti per annegamento i due marittimi giuliesi Elia Artone e Carlo Mazzi che martedì pomeriggio sono stati sorpresi dal maltempo a largo del porto di Giulianova mentre erano a bordo del motopescareccio Eliana di proprietà dello stesso Artone. La conferma è arrivata ieri sera a seguito dell'autopsia svolta all'ospedale di Teramo dall'anatomo patologo Giuseppe Sciarra. Non ne lascia dubbi il fatto che sia stata rinvenuta dell'acqua nello stomaco e nei polmoni di entrambi. Sul corpo di Elia Artone peraltro sono state trovate delle tracce di gasolio il che fa supporre che al momento del naufragio si trovasse nel vano motore. La forte ondata di maltempo però potrebbe non spiegare del tutto l'incidente fatale. Data l'enorme esperienza in mare che avevano sia Artone che Mazzi, l'ipotesi più accreditata è che siano subentrati problemi di salpamento delle reti a strascico che avevano calato per pescare. Potrebbe essersi impigliata nell'elica. Nell'ultimo contatto avuto con la moglie intorno alle 13.30 lo stesso Mazzi aveva confermato che c'erano problemi nel ritirare le reti. Ulteriori chiarimenti e dettagli saranno dati dal ritrovamento del relitto dell'Eliana, probabilmente poco oltre le 3 miglia al largo del porto di Giulianova. Le ricerche in questi due giorni però non hanno prodotto risultati e gli uomini della guardia costiera giugliese continuano a scandaliare i fondali con l'ausilio di strumentazioni elettroniche. Da una parte le indagini e le ricerche, dall'altro il momento dello straziante dolore per le due famiglie. Domani alle ore 10 nella chiesa di San Pietro Apostolo al Lido si svolgeranno i funerali congiunti dei due marittimi. Inizialmente le due famiglie erano orientate a celebrare ognuna il funerale del loro caro, ma a seguito dell'opera di mediazione dei parroci e del sindaco Francesco Mastromauro, le due famiglie sono state convinte della celebrazione del funerale unico. Ad ufficiarlo saranno proprio i tre parroci di Giulianova, Don Egno Lucantoni, Don Egno di Buonaventura e Don Abramo Olivieri. Come annunciato dallo stesso sindaco Mastromauro, quella di domani sarà giornata di lutto cittadino a Giulianova. In particolare resteranno chiusi i negozi in concomitanza con i funerali. Rinviata data da destinarsi anche la inaugurazione della piazza da parte della Fidas Cuore di Giulianova, che era programmata proprio per domani.